Seduta dell'8 marzo Napolitano a Torino Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha incontrato il capo dello Stato Giorgio Napolitano il 6 marzo a Torino in occasione del convegno sulla magistratura nella storia dell'Italia Unita. La giornata, promossa dal CSM, è stata ospitata a Palazzo Madama alla presenza di numerose autorità locali e di esponenti del Governo nazionale. Terzo bilancio di genere Valutare e orientare le strategie amministrative e la spesa pubblica secondo criteri di pari opportunità. Questo lo scopo del bilancio di genere della Regione Piemonte, curato dall'IRES, è presentato nella sua terza edizione a Palazzo Lascres il 7 marzo. Sono intervenuti l'assessore regionale agli enti locali Elena Maccanti, il consigliere regionale segretario Gianfranco Novero e le rappresentanti dei principali organismi di parità della Regione. Mostra sui 10 anni di euro Fino al 14 aprile è aperta in piazza Solferino 7, sede di Piemonte Artistico-Culturale, la mostra Da moneta unica a unica moneta. Più di 200 vignette satire che a colori raccontano la nascita dell'euro ed i suoi primi passi in Europa. All'inaugurazione è intervenuto il presidente del consiglio regionale, Valerio Cattaneo. Maschere per un massacro Nell'aula di Palazzo Lascres il 5 marzo è stato presentato il libro Maschere per un massacro di Paolo Rumiz a cura del Comitato Resistenza e Costituzione. Il volume ripercorre la genesi del conflitto nella ex Jugoslavia e ne contesta le motivazioni etniche. Con l'autore sono intervenuti Roberto Placido, vicepresidente del consiglio regionale, delegato al Comitato, Roberta Biaggiarelli, attrice e documentarista e Donatella Sasso dell'Istituto di Studi Storici Salvemini.